Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Siamo ancora su Sword of Convallaria per analizzare uno dei nuovi personaggi arrivati, ovvero Cocoa. Ci tengo anche a dire che ho letto i feedback, ho letto i commenti, ringrazio chi effettivamente si è interessato a questa serie di video e vi avviso che man mano arriveranno anche i personaggi epici. Ovviamente il focus al momento è concentrato sui leggendari perché sono quelli che bene o male tutti tendono ad avere o comunque tendono appunto a costruire per rafforzare l'account. Ma vi posso dire che ci sono tantissimi altri personaggi rari, o per meglio dire epici, chiamiamoli così, che sono comunque molto 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 validi, soprattutto per chi magari è più improntato anche sulla zona PvP. perché è ovvio che io vi parlo del personaggio così in linea generale, però non mi soffermerò più di tanto sul PvE o PvP proprio perché io tendenzialmente sono un giocatore PvE. Quindi per quanto riguarda il PvP vi potrò dire magari delle basi, delle robe molto molto diciamo generali. Se poi vogliamo andare ad approfondire, cercheremo effettivamente di approfondire però magari in separata sede o con un'altra tipologia di video, proprio letteralmente diversa. Che cosa dobbiamo dire di Cocoa? Allora, per quanto riguarda la sua storia, per quanto riguarda la lore fondamentalmente di Cocoa, lei praticamente è una ragazza ibrida, perché comunque lei fa parte sia della tribù comunque dei Valder, che sono appunto quelle creature similfurri che abbiamo all'interno del gioco, ma allo stesso tempo lei è anche una cittadina di Iria, anche se tendenzialmente nel nostro inventario lei viene comunque schierata tra i Wilder, quindi tutti i personaggi che per l'appunto hanno questa sembianza un po' più animalesca. Ma lei comunque sia fa parte di entrambe le categorie, anche se nel gioco però voi dovrete considerarla per lo più come Wilder. Ed è un personaggio abbastanza buffo, dato che come potete vedere anche dal suo aspetto la sua caratteristica principale è viaggiare con questo wok in mano e tantissimi oggetti sulle spalle. È una sorta di viaggiatrice, proprio perché lei è una nomade, e di conseguenza porta con sé tutto quello di cui lei praticamente è possessrice, quindi tutto quello che lei possiede se lo porta praticamente sulle spalle. Ha un carattere molto divertente e giocoso, le piace stare in mezzo alle persone, a differenza in generale anche dei Wilder che tendono un pochettino ad isolarsi, solitamente, per quello che abbiamo visto almeno all'interno della storia. Lei invece comunque è molto disponibile, molto solare e sta a contatto con gli esseri umani anche piuttosto facilmente, nel senso gli piace stare in mezzo alla gente. Lei comunque, nonostante abbia questo aspetto molto gentile, molto solare, molto allegro, in realtà ha avuto un background molto, molto pesante, molto pesante, molto prepotente anche nei suoi confronti. Infatti lei praticamente è stata protagonista della conoscenza della morte diretta, ha visto proprio la morte diretta dei suoi genitori. Ed è per questo che poi lei comunque ha abbandonato il villaggio e ha cominciato a viaggiare per il mondo da sola in questo momento, anche perché sta cercando da diversi anni di scoprire la verità riguardo i suoi genitori, quindi vuole scoprire effettivamente che cosa è successo realmente ai suoi genitori. Però, nonostante tutto, comunque la nostra Cocoa rimane un personaggio allegro, anche per quello che potete vedere all'interno del gioco. Che cosa dobbiamo dire del personaggio di Cocoa? Innanzitutto il suo tratto. Il suo tratto è molto, molto interessante, ed è anche una delle caratteristiche principali che rende il personaggio di Cocoa abbastanza particolare, e soprattutto direi anche forte, perché comunque sembra non esserlo, ma Cocoa è abbastanza forte da questo punto di vista. È una defender, quindi tendenzialmente viene utilizzata come tank, ma la sua peculiarità, o comunque il suo essere tank, è accompagnato anche da diversi lati support. Infatti il suo tratto, come potete vedere, permette di possedere al personaggio block, quindi avere la capacità comunque di ridurre i danni, perché appunto se voi andate a leggere block, che cos'è? È un buff che praticamente dà il 50% di possibilità di ridurre il danno fisico che il nostro avversario praticamente le fa, o frontalmente o lateralmente, diminuendo appunto il danno del 20%. Quindi noi abbiamo questo 50% di poter ridurre o frontalmente o lateralmente i danni che andiamo a subire. All'inizio di ogni round garantisce il buff di breakfast agli alleati che hanno minori HP e distino almeno due caselle da lei. Quindi per tutti i personaggi che hanno pochi HP e che distano almeno due caselle da lei, anzi che distino praticamente entro queste due caselle da lei, prendono il buff di breakfast. Che cos'è breakfast? È un buff che consente praticamente in quel turno di recuperare il 15% degli HP e di spellare addirittura un debuff. Quindi lei è molto comoda anche perché ogni turno, se stiamo vicini o comunque abbiamo la possibilità di stare in prossimità del suo range di azione, possiamo praticamente anche dispellare un debuff ed è utilissima questa cosa, è veramente veramente utilissima. Successivamente, dopo aver conferito il buff di breakfast o bento, che è un'altra tipologia di buff, dove praticamente all'inizio del turno gli HP sono addirittura del 25 recuperati e vengono dispellati due debuff al posto di una solo. Nel momento in cui l'effetto viene triggerato, quindi l'effetto di bento viene triggerato, abbiamo un 30% di possibilità di guadagnare un altro buff che è happiness. Il buff di happiness praticamente consente alle nostre skill di essere ridotte in costo di un punto, quindi un punto energia, e dopo averla utilizzata il cooldown viene ridotto di un turno. Quindi possiamo praticamente accelerare la nostra disponibilità di skill, sia come prezzo in energia e soprattutto come cooldown, che è un'altra cosa fortissima da questo punto di vista. Viene rimosso dopo aver, appunto, effettuato qualsiasi azione. Quindi nel momento in cui noi effettuiamo l'attacco o comunque effettuiamo la skill, il buff di happiness viene perso. Quindi ci serve soltanto per quel momento, per ridurre in quel momento l'azione o comunque il cooldown, però poi viene tolto. Ovviamente qual è la differenza tra breakfast e bento? È la differenza che lo stesso personaggio, una volta che ha preso breakfast, se viene ritargettato da breakfast, si trasforma in bento. Quindi è una sorta di level up. Infatti bento leva, cioè nel senso cura più HP, e dispella due buff a differenza di uno. È proprio nel senso che prima fai la colazione e poi successivamente mangi il pasto, mangi il pranzo, ecco. E quindi di conseguenza ti senti più rifocillato. E poi happiness ovviamente viene tolto, perché ovviamente viene tolto quando si effettua l'azione. La sua skill iniziale è questa. Prova la padella. È una skill comunque che viene sbloccata di default, ma che è anche molto buona, che io consiglio comunque di utilizzare, perché è un danno fisico che viene effettuato al single target, dove Cocoa effettua il 120% di danno fisico, in questo caso, e sposta l'avversario di addirittura tre caselle, infliggendo difesa down e speed down per due turni. Quindi è buonissimo il fatto che lei, in modo tale, non solo ti sposta, ma ti debuffa pure. E inoltre, mettendo il debuff di speed down 2, entra in sinergia anche con Simona, che se vi ricordate, Simona aveva la peculiarità di poter addirittura congelare i nemici che avevano il debuff di speed down. Quindi vedete già un pochettino come il gioco riesce poi a farvi ricollegare anche le strategie appena conoscete bene le varie mosse, o comunque conoscete bene i vari setup. E' la stessa cosa di qualsiasi altro gioco. Quindi è molto importante conoscere i personaggi anche per poter idealizzare successivamente i team da poter sfruttare e da poter giocare al miglior del modo possibile. Per quanto riguarda Cocoa, ovviamente ci sono tantissime abilità che possiamo andare a sbloccare, tantissime abilità che io sicuramente vi consiglierei rispetto ad altre. Ma questo ovviamente lo andiamo a vedere, così come l'equipaggiamento e tutto il resto. Allora, al rank 1 abbiamo la possibilità già di sbloccare due abilità. Abbiamo la prima, che è una skill con cooldown di tre turni, che si chiama Crushing Bash, attacco fisico single target, che infligge il 120% di danno fisico e infligge anche il debuff di Vulnerabile 2, ovvero prendere il 20% di danni in più per tre turni, il che è una roba molto molto interessante. L'altra abilità invece è un'abilità passiva, che si chiama appunto Tribù della Montagna, dove il personaggio, se un Armed, quindi in questo caso quando gli HP sono al 100%, quindi non è stato toccato, incrementa il movimento di una casella. Inoltre, se il personaggio attacca dall'altezza, dall'altitudine, quindi ha un vantaggio in altezza, oppure si muove da una casella all'altro con una differenza di altezza, quindi se io mi muovo e praticamente raggiungo una zona più alta o più bassa rispetto a me, possiamo muoverci di altri due caselle, incrementando il danno del 20%. Questa, diciamo, può essere un'abilità buona, ma col fatto che viene triggerata tramite un Armed, quindi col fatto che lei debba avere il 100% degli HP, praticamente si sfrutta pochissimo, perché è normale che il nostro personaggio, soprattutto essendo un tank, deve subire danni, o comunque deve avere la capacità di poter proteggere dai danni, quindi avere questa passiva, secondo me, risulta abbastanza limitante. Mentre invece l'altra è comunque un attacco, ci consente di essere aggressivi e inoltre ci permette di dare un bel debuff di vulnerabile, che secondo me è tanta roba. Al rank 3 invece abbiamo il Treasure Chest, che questa è una skill che comunque vi consiglierei tantissimo, è veramente un'ottima skill, dove praticamente sfruttiamo gli oggetti che possiede Cocoa. Quindi Cocoa, col fatto che lei viaggi con questo zainetto e abbia al suo interno tutti gli oggetti che si porta solitamente, abbiamo la possibilità di sfruttare questi oggetti, che sono gli Spearing Bandage, l'Ancient Potion, gli Snow Lotus e l'Allucinogenic Mushroom. Che cosa sono tutti questi oggetti? Sono praticamente le bende che permettono istantaneamente di curare il 25% degli HP del nostro alleato e possono essere utilizzate a ben 5 volte per battaglia. Quindi capite bene che il nostro personaggio di Cocoa non solo è ottimo come tank o anche come pseudo debuffer, ma al tempo stesso ci consente anche di effettuare dei healing, quindi ci consente anche di curare. Successivamente abbiamo pozione antica, Ancient Potion, che praticamente cura del 45% gli HP dell'utilizzatore di questa skill e ripristina anche un'energia e può essere utilizzata per ben 3 volte durante la battaglia. Mentre invece lo Snow Lotus permette di dispellare tutti i debuff sul target e garantire danno per 3, quindi danno di livello 3, e riduzione danno di livello 3 e immunità all'attribuzione di debuff per 3 turni. Quindi non solo ci dispella, ma ci dà anche l'immunità al debuff e può essere utilizzata per ben 3 volte a battaglia. Questo, lo Snow Lotus, è probabilmente uno degli effetti più forti che Cocoa ha la capacità di possedere, perché non solo ci potenzia il nostro personaggio, ma al tempo stesso ci permette di non subire debuff. Quindi veramente tanta bella roba. E poi invece i funghi allucinogeni che effettuano danno da perforazione uguale al 30% degli HP del target, quindi è un danno fixed, possiamo dire in questo caso, e infliggono anche il debuff slip, quindi sonno, che dura per un solo turno. Dopodiché infligge due stack di infection che può essere portata o che può essere applicata fino a 3 volte per battaglia. è molto molto interessante. Molto interessante anche il fatto di poter debuffare, di poter mettere a nanna i nostri avversari, e anche quello appunto di dare infection, che è praticamente un danno dot che noi infliggeremo ai nostri avversari, quindi noi possiamo in un modo o nell'altro essere forti sia da vicino che da lontano, anche perché questi funghi lei praticamente li lancia. quindi se voi notate, e ora qua purtroppo non ve lo fa vedere, perché in realtà la skill all'Unicinologic Mushroom vi consente praticamente di lanciare questi funghi, quindi non è un attacco necessariamente ravvicinato, ma può essere anche leggermente a distanza. Molto molto comodo. Mentre invece l'altra abilità è un'altra passiva, dove Cocoa nel momento in cui blocca praticamente il danno viene diminuito del 15%. Se il personaggio non sta morendo, quindi non è sotto al 25% degli HP, performa assisting cover a tutti gli altri alleati di due caselle. Questo potrebbe essere carino per chi vuole giocare effettivamente Cocoa come tank, come Cocoa... ah sì, fondamentalmente chi vuole giocare Cocoa come tank, perché questa skill gli consente di potersi sostituire un po' come fa Maita nei confronti dei personaggi se subiscono troppi danni. È vero che noi comunque possiamo buffare i nostri alleati facendo ridurre i danni, permettendo di fare anche più danni, quindi secondo me la sacca, la treasure chest di Cocoa è sicuramente meglio, però questa passiva per chi vuole giocare Cocoa più tank è secondo me validissima. Successivamente abbiamo la reaction, quindi la reazione quando veniamo attaccati, stay strong, dove praticamente dopo essere stati colpiti da un attacco single target, recuperiamo gli HP al personaggio e ad un altro alleato con gli HP più bassi che distino almeno di due caselle rispetto a lei, del 12%, e può essere attivata addirittura due volte per ogni round. Quindi ogni volta che veniamo attaccati recuperiamo HP noi e anche il personaggio che possiede meno HP e disti almeno due caselle dalla nostra distanza. Quindi questa è molto buona come reazione, anche perché, ripeto, può essere attivata ben due volte per ogni round. Mentre invece l'altra è difesa contro gli attacchi ranged, quindi quando veniamo attaccati dagli attacchi ranged, diminuiamo i danni del 25%. Ci interessa questa cosa? In realtà no, perché noi comunque col buff di block, se riusciamo ovviamente a bloccare, abbiamo comunque una riduzione a prescindere sia dei danni ranged che dei danni ovviamente, diciamo, fisici comunque vicini. È vero che qui avremo un blocco ancora più esagerato, ma questa probabilmente è la possibilità per chi vuole utilizzare Cocoa come tank, ma secondo me anche come tank Stay Strong come reaction è sicuramente meglio. Al rank 7 invece sblocchiamo la passiva aura, in questo caso la leaders' aura, dove per tutti quanti i builder abbiamo l'attacco incrementato del 10% e la difesa del 20%, quindi per chi vuole effettuare o comunque per chi vuole creare un team soltanto con builderiani, questa è una passiva eccezionale. Mentre invece l'altra è sempre un'altra passiva dove nel momento in cui si ricevono degli attacchi ranged, quindi degli attacchi a distanza, che siano o frontalmente o lateralmente, c'è il 100% di possibilità di utilizzare blocca. E blocca ovviamente diminuisce il danno del 10%, quindi praticamente diventiamo, non dico immuni, ma diventiamo comunque molto tankosi, soprattutto per quanto riguarda anche gli attacchi a distanza. Ci serve? Secondo me no. Molto meglio la leaders' aura, che è utilizzata in combinazione con altri personaggi builderiani, secondo me è veramente tanta roba. Al rank 9 invece sblocchiamo l'attacco base Piercing Strike, che è l'attacco modificato, che però ci consente di effettuare danno al 100%, e inoltre garantire difesa down, fisica e difesa down magica, di uno, di un livello, per ben due turni. Quindi secondo me è molto meglio questa, piuttosto che un attacco fisico normale, che ci serve a poco e niente. L'altra skill invece è No Turning Round, altro attacco base, che implice il 100% del danno fisico, e quando si effettua invece un attacco alle spalle, c'è un 70% di infliggere lo stun al nostro avversario per un turno. Può essere attivato una sola volta per battaglia. Il 70% è comunque una percentuale molto alta, ma piuttosto che stunnare il mio avversario, io preferisco debuffarlo, per fargli successivamente più danni, magari col personaggio che viene dopo di me, e che può comunque shottarlo. Quindi secondo me qui c'è poco da discutere. Lo stun può essere interessante, ma secondo me il debuff vince a qualsiasi livello. E poi al rank 11 abbiamo altre due passive, anzi abbiamo altre due abilità che sono molto interessanti, dove secondo me l'Iron Pot Stew è incredibilmente forte, quindi io consiglierei poi di sbloccare l'Iron Pot Stew, dove praticamente è una skill di healing, dove appunto abbiamo la possibilità di curare i nostri alleati che distino almeno tre caselle da lei, guardate infatti il range che possediamo praticamente per le cure, del 30% dei suoi HP. Quindi più HP possiede il nostro personaggio, più cura riusciamo ad effettuare. E inoltre garantiamo ai nostri alleati Critico di livello 2 e Critic Damage di livello 1. Quindi Critic Rate aumentato di due livelli e Critic Damage invece aumentato di uno. Quindi Critic Damage 15% danno critico, Crit 2 addirittura 30% di possibilità di critico. E inoltre abbiamo la capacità di dare anche il buff di Bento, quindi che all'inizio del turno abbiamo la possibilità di recuperare un altro 25% in base dei nostri HP e di spellare due debuff. Quindi capite quanto sia forte effettivamente questa skill e soprattutto il fatto che comunque abbia 3 come costo di energia e 3 come cooldown. Ma ricordatevi che se Cocoa triggera l'effetto happiness si riduce di 1. Quindi possiamo curare praticamente ogni due turni con solo due energia. E questa è veramente tanta roba. E poi invece abbiamo il Vulnerabile che è praticamente una skill di supporto quindi che possiamo evocare su noi stessi dove appunto guadagniamo riduzione del danno di livello 4 e Mind's Eye e immunità a Disrupt per 3 turni. Che cosa sono questi buff? Il Mind's Eye praticamente attiva blocca dopo aver ricevuto un attacco alle spalle. Quindi il block praticamente si attiverà davanti, lateralmente e alle spalle. Quindi da qualsiasi posizione verremo attaccati si attiverà block e poi Immunity to Disrupt è praticamente la capacità di essere immuni a tutti quei debuff, a tutte quelle passive che praticamente non ci permetterebbero di fare niente. Quindi tutte le possibilità di muoverci meno di utilizzare le skill, le skill passive le reaction, gli assist, eccetera eccetera. Quindi diventiamo praticamente immuni a tutto. costa una sola energia ma il cooldown è di ben 5 turni quindi anche in questo caso è molto pesante. È vero che avere un'immunità così grande è cosa buona e giusta soprattutto per un personaggio come Cocoa ma secondo me il confronto non esiste con questa skill che non solo ci consente di curare ma ci permette comunque di ottenere tante belle robette. In soldoni come si utilizza Cocoa? Cocoa si utilizza come un tank ma allo stesso tempo vi consente anche di essere un healer quindi le statistiche da migliorare saranno sicuramente HP e le difese magiche e fisiche. L'attacco si può aumentare ma l'attacco comunque utilizzando poi le diverse armi comunque si avrà la possibilità anche di fare dei bei danni. Quindi la priorità secondo me rimarranno comunque gli HP e le difese fisiche e magiche a prescindere. Per quanto riguarda invece le armi e gli equipaggiamenti raccomandati io personalmente in base anche a quello che fa il personaggio di Cocoa vi consiglierei per quanto riguarda le armi sicuramente o il tuning armor che è comunque un'arma che secondo me è molto valida perché quest'arma? Perché praticamente incrementa l'attacco fisico e consente di dispellare un buff dal nostro target prima di attaccarlo. Quindi abbiamo la capacità praticamente di dispellare volendo così anche due debuff alla volta. Quindi abbiamo la capacità praticamente di essere anche dei dispeller e levare comunque i buff ai nostri avversari è molto 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 comodo. Ci sono ovviamente anche altre armi che funzionerebbero benissimo come anche l'arma di Rauia ovvero la Fast Axe perché consente praticamente di incrementare l'attacco del 10% quando gli HP del nostro avversario sono più bassi e inoltre abbiamo la possibilità di recuperare il 20% di HP quando sconfiggiamo un nemico quindi anche in questo caso possiamo avere appunto la capacità di recuperare HP eccetera eccetera. Un'altra arma che secondo me è valida potrebbe anche essere la Brutal Axe dove abbiamo l'incremento degli HP del 3% che è molto buono per Cocoa e inoltre quando attacchiamo un nemico di cui gli HP sono più alti del nostro personaggio ignoriamo il 20% della difesa quindi possiamo praticamente perforare la difesa e fare più danni se il nostro personaggio è più forte dal punto di vista HP o comunque ha gli HP più alti di noi quindi abbiamo comunque diverse opportunità che possiamo utilizzare secondo me queste sono le migliori ma per me sicuramente il martello che leva un buff al nostro avversario rimane sicuramente il migliore anche perché noi comunque abbiamo le capacità anche di rimuovere altri buff e comunque permettere al nostro personaggio soprattutto tramite soprattutto tramite anche la skill di poter allontanare il nostro avversario possiamo allontanarlo spostarlo di tante caselle infliggere debuff e addirittura dispellarlo quindi facciamo praticamente un effetto di cleanse però al contrario e secondo me questa cosa è molto molto buona oppure utilizzare anche quest'altro attacco proprio per dare anche la vulnerabilità quindi capite bene come effettivamente Cocoa possa essere anche una sorta di pseudo debuffer anche se non sarà quello il suo diciamo il suo obiettivo principale per quanto riguarda invece l'armatura io al momento sto utilizzando l'evergreen pendant in modo tale che quando si cura tramite appunto la sua reaction che ha la possibilità appunto di curarsi c'è un 50% di attivare un random buff di livello 2 per due turni quindi è comodo il fatto che io mi possa curare da sola tramite appunto la skill reaction di Cocoa e guadagnare praticamente un'altra armatura comoda potrebbe essere questa che però io al momento ho su gloria e non rimuoverei perché incrementa gli HP e gli attacchi alle spalle effettuano il 10% in più di danno solo che io con Cocoa alle spalle non devo attaccare quindi non mi interessa l'unica cosa che poteva essere interessante era appunto l'incremento del 2% degli HP per permettermi di avere più HP però diciamo che gli HP si potranno aumentare in diversi modi e secondo me appunto queste due armature sono quelle che consiglierei di più personalmente parlando mentre invece per quanto riguarda i Trinket o comunque i Whispers io al momento sto utilizzando il Silence of the Hermit perché mi permette di ridurre i danni subiti del 10% e secondo me questi cioè questo è il suo Whisper migliore anche perché sono stato fortunato perché ho preso praticamente un Whisper che mi aumenta gli HP l'attacco fisico la difesa magica e poi ci sarebbe l'altro a livello 50 però se fosse un altro aumento di HP sarebbe ancora meglio però questo poi lo vedremo man mano che andrò a potenziare ho letto in giro che molti utilizzano anche diversi setup diverse combinazioni però così come tutti i Defender io personalmente preferisco questo preferisco senza ombra di dubbio questo ho visto in giro che molti consigliavano anche i libri dove praticamente incrementavano l'effetto di healing che potrebbe essere interessante in alcuni punti di vista però ricordiamoci che Cocoa non è tanto un healer quanto un tank quindi io preferisco che lei rimanga in vita piuttosto che curi di più è vero che curare di più mi consente anche a me di curarmi di più però ridurre i danni secondo me è meglio secondo me è molto meglio ho visto anche la corona dove praticamente dopo aver utilizzato una skill su un alleato converte un debuff in un buff quindi abbiamo la capacità comunque di renderla anche più potente dal punto di vista debuff e poi un'altra che avevo visto era questa dove praticamente il danno viene incrementato del 10% se stiamo attaccando dei nemici in salute quindi che abbiano almeno il 75% 70% di HP secondo me questa è la meno utile perché alla fine Cocoa non deve essere un DPS o comunque non deve fare danni e secondo me almeno per quello che mi sembra per quello che mi sembra il Silence of the Hermit è il miglior Whisper che possiamo utilizzare nei confronti di Cocoa tra l'altro Cocoa è molto buona portata su di stelle perché comunque potete notare che aumentano tutte le loro statistiche aumentano le possibilità successivamente di conferire happiness addirittura a 5 stelle happiness è garantito al 100% non ci sono più le percentuali come vedete tutte quante le altre quindi diciamo che il potenziale di crescita di Cocoa è sicuramente valido quindi per chi avrà la possibilità piano piano di portarla anche a 5 stelle avrà un personaggio di tutto rispetto ma anche così funziona comunque molto bene quindi ricordatevi di pompare HP di pompare le difese e cercare di appunto di utilizzarla un po' come meglio crediate detto questo non credo che ci sia altro da dire per Cocoa penso di aver detto già abbastanza io vi ringrazio al solito per chi ha interesse nel guardare questi video nell'imparare appunto qualcosa in più e noi come sempre ci becchiamo alla prossima ciao 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 ciao